Sei mesi fa ho deciso di stravolgere completamente la mia vita abbandonando il mio vecchio lavoro in ufficio per dedicarmi alla mia unica passione, quella per il mondo dello sport. Da sempre sono una persona molto eclettica, diplomata al conservatorio, laureata in ingegneria ed atleta agonista nel mondo della palla nuova. Ho raggiunto la notorietà mediante un noto programma televisivo e da allora sono entrati in contatto con numerosissime persone grazie all'utilizzo dei miei social. Quotidianamente entro a contatto con le problematiche delle persone e cerco di dare loro una spinta positiva. Ho quindi deciso di mettere in piedi un team specializzato di nutrizionisti, motivatori, psicologi, personal trainer con la finalità di trasmettere messaggi positivi quali il volersi bene e non arrendersi mai. Durante questa quarantena ho sfruttato i miei canali social per trasmettere delle dirette allenanti, allenamenti basali su metodologia IT che sono arrivati in tutto il mondo, anche Tunisia, Messico e attraverso i quali numerosissime persone, migliaia, hanno avuto grandissimi risultati. Inoltre ho sfruttato questo tempo per portare nelle mie live atleti e paratleti in grado di motivare tutte quelle persone che hanno perso stima in se stessi. Ad oggi contiamo su di una community di quasi più di 260.000 persone, suddivise tra Facebook ed Instagram, con le quali interagisco quotidianamente anche attraverso i miei canali Telegram ed il mio podcast, il primo podcast in Italia a trattare tematiche quali nutrizione, motivazione e fitness. E contiamo e speriamo che sempre più persone entrino in contatto con noi e si rivolgano a noi per iniziare a volersi bene.